Amici di T-Cart, buongiorno, oggi sono orfano, non so se è una fortuna o una disgrazia Mandiamo da Aro Vainio, il protagonista, il vero eroe della Super Paul con il suo maranello Alla prima stagione in Super KF, dopo una stagione grandiosa in KF3, arriva e sta davanti Con 3 decimi di secondo su Marco Ardigo So Aro, 3 tens of seconds faster than Marco Ardigo The world champion, your first year in KF1 Super KF How was the feeling, the sensation? The sensation is just for me, it's like one lap you have to pull so fast as you can And the tires are a bit cold and the engine and everything is like not like in the race So it's just one lap and that's it and that's for me Ok, e lui dice che è contentissimo di fare tutto in un solo giro Io poi non ho capito benissimo quello che ha detto, ma fa niente Che i nostri lettori del sito inglesi capiranno sicuramente meglio di me And how was now your feeling for the race? Because it would be a tough race with the rain, because it started raining And of course with a lot of very experienced drivers that are racing for you Gli ho chiesto come sarà la gara, visto che sicuramente sarà una gara molto difficile Con la pioggia e con tanti piloti molto più esperti di lui E sicuramente in una finale unica da ben 40 km And I forgot to ask you in one final, very long final Ok, lui dice che la gara per lui può essere abbastanza facile Perché essendo finlandese è abituato abbastanza alla guida sul bagnato E comunque si vedrà da fare durante le manche Thank you and good luck